ciao lettrici e lettori benvenuti su misfiction books noi non ci vediamo da un po ma finalmente siamo tornati con i fantasy talks nell'ultima puntata avevamo introdotto il gotico per approdare al dark fantasy oggi completiamo questo percorso per concludere l'esplorazione di questi generi che cosa ci siamo lasciati indietro riprendiamo dalle nostre creature dai fondamenti oscuri che poi sfoceranno nel dark fantasy prima di tutto e ripeschiamo anche le fondamenta altro aspetto che non avrei voluto tralasciare nella scorsa puntata è anche una chiave di lettura che intende il mostruoso il grottesco un po diversamente dal solito l'orrorificità delle ambientazioni viste in una maniera un po inusuale vorrei aggiungere anche quanto siano importanti gli elementi associati all'invisibilità che spesso il dark fantasy rappresenta come la povertà le marginazione e l'alienazione che sono stati esplorati attraverso i personaggi e le atmosfere che spesso emergono in questi contesti in fondo tanto per citare platone partire quindi subito in quarta non sono aspetti che forse volutamente vogliamo tenere all'oscuro la nostra mente non viene un po illuminata quando scoperchiamo quello che cerchiamo di non vedere perché ci fa paura perché non ci piace o perché ci mette a disagio ma visto che manca giusto giusto una chiusura alla parte gotica che ci siamo lasciate alle spalle nella scorsa puntata parliamo di creature che hanno contraddistinto uno degli elementi fondamentali prima del gotico fantastico e poi del dark fantasy shall we e direi che non si può parlare di gotico e di creature se non ripeschiamo due grandissimi classici come frankenstein di mary shelley e carmilla di le fanu non solo perché sono due romanzi fondamentali ma perché affrontano due creature legate al mostruoso che si riverseranno come archetipi anche nel dark fantasy possiamo dire che nel 1816 vede la luce la creatura nasce il mostro vero e proprio saprete certamente che frankenstein è nato durante un ritiro di artisti e scrittori romantici tra cui era presente proprio mary shelley che si sfidarono durante alcuni giorni di piogge intense a scrivere un racconto del terrore così mary creò la creatura tanto spaventosa nell'aspetto quanto sensibile all'ostilità e alla ricerca di una persona che provi compassione e affetto che la guardi senza terrore negli occhi il suo unico desiderio è quanto di più umano possa esistere essere amata si può dire che nel caso di frankenstein la mostruosità più che dalla creatura è rappresentata dal dottor frankenstein stesso che capace di dare vita alla materia inanimata si illude di poter controllare l'incontrollabile e infrangere le leggi degli uomini esplorerò nuove vie nuovi poteri fino ad arrivare ai misteri più profondi della creazione dall'altro lato abbiamo la creatura di victor frankenstein un essere assemblato tramite un processo già di per sé disumano che mescola tanto la generazione quanto la corruzione dall'altro abbiamo mary shelley una donna che viene mostrificata in quanto inarrestabile dentro i parametri dei ruoli di genere della società inglese della prima metà dell'ottocento a lei dobbiamo tanto forse dobbiamo proprio tutto sicuramente per quanto riguarda l'ambito fantastico nulla è stato più come prima dopo la pubblicazione di frankenstein cito carmilla anche perché ci servirà in seguito per cogliere una sfumatura invece diversa legata alla creatura il confronto con l'istinto e la propria natura che diventerà un tema centrale di creature come quella vampiresca appunto che possiamo dire acquisisce popolarità anche grazie a carmilla e poi ovviamente a dracula l'approccio di le fanù utilizza troppi gotici che mescolano l'istinto contrapposto a rettitudine in pieno stile dell'epoca con una non troppo velata critica alla società conservatrice usa i tabù e le azioni della norma sessuale per come concepita nella società di metà ottocento per mostrare esplicitamente l'ascesa della nuova donna che insegue la libertà sessuale una delle principali differenze tra dracula e carmilla è il modo in cui ogni autore interconnette il troppo gotico della sessualità carmilla è ritratta come bella e maestosa dracula è ritratto come un uomo dall'aspetto orribile la sessualità e la seduzione sono gli strumenti preferiti da carmilla per attirare le sue vittime mentre dracula usa una specie di trance in entrambe le storie non mancano i toni cupi e tesi ma nel caso di carmilla l'aspetto esterno non è assolutamente una conferma una smentita della mostruosità facciamo qualche salto più avanti infatti abbandoniamo un po' alcuni aspetti gotici per iniziare a parlare di dark fantasy gertrude burrows bennett viene considerata quasi unanimamente la madre del dark e del weird fantasy ma possiamo notare come il suo contributo sia stato imprescindibile visionario anche per la distopia e la fantascienza e per questo viene definita un'autrice sempre attenta alla possibilità di contaminare i generi è stata definita la più grande scrittrice di fantascienza nel periodo tra mary wollstonecraft shelley e c l moore è stata un' ispiratrice di autori ben più famosi nella memoria collettiva che va detto la un po' abbandonata e dimenticata uno su tutti il beniamino dell'horror hp lovecraft l'identità di gertrude e la sua storia sono avvolti da un'aura lugubre misteriosa la sua produzione sei romanzi e sette racconti concentrata nell'arco di alcuni anni dal 1917 al 1920 che se ci pensiamo è pochissimo si interrompe bruscamente con la morte della madre e dopo una serie di lutti familiari nel 1939 gertrude scompare e non si saprà nulla di lei nemmeno la conferma della morte che avverrà solamente col ritrovamento del certificato di decesso datato 1948 ritrovato soltanto agli inizi degli anni 2000 il 14 aprile 1917 su all story weekly esce the nightmare il primo racconto di gertrude con lo pseudonimo di francis stevens che si ascrive a pieno titolo nella corrente dark fantasy capace di attraversare i generi per esempio horror e science fiction una grottesca originalità la contraddistingue seguono nel 1918 i racconti friend island e behind the curtain e i romanzi citadel of fear and the labyrinth nel 1919 i racconti unseen unfaired e the elf trap i romanzi the heads of cerberus e avalon nel 1920 i romanzi claimed e serapion il racconto sunfire tra l'altro le teste del cerbero sono appena state ripubblicate in italia è possibile parlare di oscurità senza citare howard philip lovecraft e in particolar modo il ciclo di cazulu no ovviamente anche se un'animamente in prospettiva sarebbe meglio farlo inghiottire dalla sua oscurità ma questo per ragioni molto diverse da quelle letterarie e anche se la sua produzione si inserisce perfettamente nel genere horror era inevitabile citarlo in questa sede poiché il suo contributo al genere dark fantasy è inestimabile alcune opere di questo genere non si svolgono in un universo tipicamente fantasy ma in un contesto attuale urbano l'offre è stato precursore poiché questi racconti oltre a quelle del mondo dei sogni avvenivano sempre in un ambiente contemporaneo anche se le città sono sempre state di pura invenzione arkham ad esempio le sue storie macabre oniriche e il ciclo di cazulu sono ascrivibili tanto all'horror quanto molto spesso ad una prematura visione del genere dark fantasy lovecraft dalla lezione di poe incorpora l'ispirazione dagli incubi dalle paure latenti e dall'atmosfera inquietante e da lord d'unzani il secondary world come abbiamo fatto anche in moltissime delle puntate precedenti se non tutte non si può parlare di fantasy oscuro e di dark senza citare l'imprescindibile contributo di robert a howard scrittore americano di pulp fantasy horror avventure storiche box western romanzi polizieschi che nell'oscurità ci ha sguazzato e l'ha portata a nuovi livelli narrativi insieme a lui anche clark ashton smith altro autore molto prolifico che grazie ai molti racconti parecchi ambientati nell'universo di zothic ha spianato la strada per numerosissime esperienze che poi confluiranno nel dark fantasy poi arriviamo a due cuori di panna per la sottoscritta ovvero abraham merritt e fritz liber merritt nella sua produzione ha spazzato in ogni angolo del fantastico e forte della possibilità di viaggiare tantissime ed esplorare luoghi lontanissimi dalla sua città di origine si avvicina a miti tradizionali cultura che agli occhi di un americano di inizio novecento dovevano sembrare misteriose e spesso inquietanti e che ha riportato nei suoi romanzi traghettandole su suolo statunitense nel 1932 brucia strega brucia burn witch burn e poi nel 1934 con striscia ombra cioè creep shadow l'autore di beverly ha introdotto due archetipi che diventeranno estremamente popolari sia nell'horror che nel dark fantasy è uno dei primi ad introdurre il concetto di bambola assassina che ancora oggi un po' ci inquieta invece fritz liber che ha giocato per anni in bilicro tra pulp horror fantascienza sword and sorcery heroic fantasy e dark nella sua produzione insomma le ha provate un po' tutte pubblica nel 1943 conjure wife o l'ombra del male in italiano immaginandosi una coppia apparentemente normale dietro alla quale si cela un segreto che il marito non ha mai davvero colto e se tutte le donne fossero streghe e se queste streghe fossero in contrasto tra di loro a colpi di malefici e pozioni per distruggere i rispettivi mariti ed emergere in questo caso ritroviamo tutte queste storie nell'antologia streghe ricordiamo anche robert bloc che spesso nei suoi racconti brevi aveva mescolato horror a fantastico creando mondi e creature molto vicine alla concezione moderna di dark direi che però ora possiamo passare ad una fase prototipica di sperimentazione senza avere una vera e propria definizione ad opere che piano piano iniziano a costruire tramite moltissimi elementi gotici quello che verrà codificato in seguito come dark fantasy il primo titolo che andiamo ad affrontare insieme è tito di gormengast è stato pubblicato nel 1946 e ve lo metto qua anche se ero davvero molto combattuta ma è un po tutto il tema dei fantasy talks dove vanno le varie opere quando potrebbero stare ovunque perché stava benissimo in almeno altri generi e assurdamente da molte persone manco viene considerato fantasy perché è troppo letterario per abbassarsi a noi comuni mortali del proletariato fantastico ma sti cazzi perché tanto è un fantasy letterario con elementi gotici tanto surreali quindi lo metto qua e chi non è d'accordo fuori dalla porta scherzando ovviamente più o meno c'è solo una serie fantasy che si è mai avvicinata alla popolarità del signore degli anelli negli anni 60 questa è stata gormengast di mervyn peak tre libri seguono la famiglia reale di gormengast i delamenti un enorme castello ormai decadente dai colori spenti che certamente non è mai stato percorso in lungo e in largo in ogni sua stanza in un mondo cupo come quello di gormengast è possibile percepire una sovrapposizione tra il carattere dei personaggi che popolano le sue stanze e il castello stesso sembra non esserci vita al di fuori di questo microcosmo e questa realtà appesa ad un filo viene sconvolta dall'arrivo dell'erede maschio tito portandoci dentro questo scombussolamento corale degli abitanti del castello gormengast è un capolavoro gotico che spesso cade nel surreale dove il luogo è esso stesso il protagonista quasi più del suo eroe e del coro che lo accompagna e di certo proietta numerose ansie vissute dai suoi protagonisti con grande efficacia tutto è sinistro a gormengast a partire dalle terre desolate che circondano il castello però è anche inequivocabilmente una creatura quasi sempre mostruosa che costringe i protagonisti a confrontarsi con le fratture più insidiose che rispecchiano in se stesse il castello a gormengast tutti i personaggi sono esagerati sono personificazioni del proprio ruolo nel castello che possono essere considerati dei veri e propri pezzi di gormengast e c'è una regola non troppo sottaciuta nulla può cambiare perché gormengast deve sopravvivere così com'è e come sempre è stato gormengast è una creatura vera e propria che soffoca ogni cambiamento impedisce ai suoi abitanti di staccarsi da esso 76 generazioni chiuse dentro queste stanze inevitabilmente ci porteranno a riflettere sulla resistenza al cambiamento tra lo scontro generazionale tra vecchio e nuovo e sarà bello in modo assurdo o magari non sarà bello per tutti ma sicuramente assurdo nel 1961 invece esce un'opera che viene considerata proprio la base sia del dark fantasy che di altri generi nel 1961 michael murkog pubblica infatti il ciclo di elric of melney bonnet nove raccolte di racconti chiunque sia esperto di tradizione fantasy conoscerà eric dal momento che uno dei personaggi più famosi e anche amati detestiati odiati insomma tutto quello che volete dell'era dello sword and sorcery ma è qui per un motivo ben preciso eric è fondamentalmente uno degli archetipi principali di tutto il fantasy per quanto riguarda la figura dell'antieroe lo troviamo qua ma lo possiamo ritrovare come vi dicevo anche prima nello sword and sorcery come in parte nel grim dark di cui si dice sia uno dei precursori totali o nell'epic qui cercherò di sottolineare solo gli elementi più legati all'ambito dark michael murkog è stato un autore incredibile per il panorama fantasy esplorando numerosi generi e sperimentando moltissimo tra i più prolifici peraltro nel lavorare al concetto di multiverso ed espanderlo sia sul piano cosmologico che narrativo guidato sempre dalla figura di un campione eterno ovvero un paladino in grado di mantenere l'equilibrio cosmico le vicende di eric si svolgono sul pianeta terra in un'immaginaria età preistorica in cui gli esseri umani vivono con un popolo di esseri similfei chiamati melniboneani che avevano dominato il mondo fino alla ribellione degli umani melnibone decade il suo impero i suoi abitanti si trasformano sono ormai nostalgici della gloria passata ma sono sempre più inclini al sadismo e alla crudeltà estremamente egocentrici e devoti agli dei del caos in questa situazione precaria inizia l'ascesa al titolo di imperatore di eric il famoso stregone albino affetto da numerose malattie croniche e portatore di tempestosa o stormbringer una spada senziente che conferisce potere a chi la impugna tutto per il prezzo assolutamente ragionevole di nutrirsi delle anime dei nemici inutile dire che la sagra di la sagra soprattutto la sagra inutile dire che la sagra di eric è un classico fantasy ed è oscuro come l'inferno ma eric è un personaggio controverso perché se da un lato è un virilissimo guerriero senza pietà per i nemici è anche empatico e curioso cerca di stabilire rapporti non conflittuari con i regni giovani degli esseri umani tenta di comprendere la natura e si avventura al di fuori di melny bonnet per questo queste sue decisioni però ovviamente gli costeranno caro perché lo mettiamo in ambito dark non tutti gli elementi lo sono chiaramente ma il tono del libro è sicuramente cupissimo e pieno di personaggi e popoli interi che dilagano verso la dissolutezza più oscura una convivenza tra paranormale e magia manifesto tra collusioni e distinti più bassi e patti inenarrabili con le divinità tra ambiguità morale e disillusione l'abbondante uso di sostanze simpatiche insomma la morte la violenza la prevaricazione insomma tutte cose in cassa alla coppia murcock peraltro è stato fermamente antitolkeniano e questo libro è quanto di più lontano dal signore degli anelli fosse mai arrivato fino a quel momento il fantasy come imperatore di melny bonnet eric è stranamente uno dei meno cattivi dei melny boniani pur servendo le forze del caos è un grande antieroe di ambiguità a cavallo tra luce e ombra che sacrifica tutto ciò a cui tiene per il potere che alla fine lo porterà alla rovina se non è dark eric io non so cosa possa esserlo sinceramente menzione speciale nel prossimo titolo per uno dei miei amatissimi come già ben sapete ovvero ray bradbury è chiaramente più conosciuto per l'ambito fantascientifico e fantastico ma spesso si è cimentato in quelli che sarebbero stati concepiti dal mercato attuale come urban fantasy a cravallo tra horror dark fantasy e gotico uno su tutti nel 1962 something wicked this way come ne abbiamo già parlato in qualche video ma perché non ripeterci will e jim sono due ragazzi 14 anni amici da sempre che vivono nella piccola cittadina della provincia di green town nell'illinois tra gli anni 40 e 50 la sera di halloween in città arriva un luna park simile ad un circo ma dall'area piuttosto misteriosa gli abitanti di green town iniziano a frequentare le più incredibili attrazioni del circo l'uomo elettrico la galleria degli specchi la giostra la strega della polvere il nano nascondono però tutti un segreto che scopriranno gli abitanti a proprie spese solo troppo tardi ogni giostra può farti ottenere quello che desideri nel profondo ma ad un prezzo molto caro dopo questo breve excursus su ray breadbury 1977 escono le cronache di thomas covenant l'incredulo di steven r donaldson l'intera saga si compone di tre cicli di volume a partire da lord's fall pain la conquista dello scettro ed è un progetto letterario che per il genere dark in generale per il fantasy è stata notevolmente importante nonostante stilisticamente ritmicamente a distanza di tempo risente moltissimo dell'epoca in cui è stato pubblicato possiamo dire nella landa è in corso una guerra mai conclusa contro l'incarnazione del male chiamato lo spregiatore ossia immondo che è l'origine di tutto il male il suo esercito è composto da creature mostruose che lo affiancano nell'obiettivo finale spezzare l'arco del tempo che lo tiene prigioniero nella landa per farlo ha bisogno del potere dell'anello nuziale di covenant poiché composto da una lega sconosciuta nella landa in grado di prodigi incomparabili secondo le leggende della landa quando il creatore diede vita al mondo si rese conto di aver dato vita anche al male anche se non era sua intenzione scopri così lo spregiatore che aveva operato a sua insaputa durante la creazione o che era stato a sua insaputa una parte di sé il creatore allora rinchiuse nell'arco del tempo quest'entità manigna imprigionandola nella landa e costringendo così la sua creazione a conviverci per sempre covenant è il nostro protagonista che viene catapultato nella landa dal mondo normale segretamente scelto dal creatore egli è lago della bilancia nella lotta tra il bene e il male covenant è stato corrotto lo colpisce infatti la lebra entra in questo stato duale di corruzione corporea di mancanza di lucidità mentale quando non riesce a credere di essere stato trasportato in un altro mondo credendo tutto un'illusione che lo porta a vivere la prima esperienza fondante della sua esistenza ma la sua risolutezza lo manterrà in vita mentre il morbo si ciba della sua carne e il delirio lo coglie di tanto in tanto il nostro protagonista è un lebroso che cerca in ogni modo di risultare sgradevole fino in fondo un vero anti eroe nel senso della parola la sua esteriorità considerata mostruosa non è nulla paragonato ciò di cui è capace se finirete per odiarlo nel profondo ad esserne continuamente disgustati allora la missione di donaldson è stata compiuta a pieno ovviamente siamo arrivati al punto in cui in questo elenco io so che vi stavate chiedendo dove sta enrice ecco qua e anche qua è horror è gotico è dark fantasy l'autrice in fondo è riuscita a fondere bene questi tre elementi in due delle sue opere principali ovvero le cronache del vampiro e il ciclo delle streghe di merfer visto che ci ha lasciato pochi giorni fa e per me è stata una delle autrici più fondanti della mia adolescenza e che tuttora porto nel cuore non potevo dedicare uno spazio abbondante a lei e alle sue storie come abbiamo anticipato nella puntata scorsa fondamentalmente dark means creatures e chi meglio dei vampiri per parlare di creature ogni libro delle cronache si concentra sulla figura di un vampiro in particolare con numerosi richiami tra i differenti volumi rice riesce attraverso ogni singolo libro ad esplorare la psicologia e le riflessioni dei vampiri dando ampio spazio alle sensazioni ai sentimenti alle afflizioni alle relazioni tra i vampiri creature che sono in grado di amare come e più di ogni altro essere nel 1976 esce intervista col vampiro celeberrimo primo volume di una saga che si comporrà di quasi 15 libri se contiamo anche le novelle e le nuove cronache il vampiro lui di ponte du lac decide di raccontare la sua lunghissima vita ad un giornalista ripercorrendo la sua nascita grazie all'incontro con il vampiro all'estate la loro natura inizialmente appare molto diversa l'estate è spietato si nutre delle sue vittime quasi fosse un gioco mentre il nuovo figlio della notte lui è disgustato dall'idea stessa che per sopravvivere debba bere il sangue di persone innocenti lui decide di bere perciò solo sangue animali quindi cosiddetti vampiri vegetariani ve lo giuro esistevano prima di stephanie mayer anche se comunque parlare di vampiri vegetariani fa molto ridere dopo diverso tempo però lui cede alle pressioni di l'estate e si nutre di una bambina claudia che diventando una vampira lo seguirà negli anni successivi cercheranno insieme di liberarsi di l'estate fuggendo in europa per allontanarsi trovando una nuova comunità a parigi incontrando anche armand che si innamorerà di lui la loro però è una storia che è destinata a finire nel sangue esattamente com'è cominciata i vampiri di henrys sono soprattutto degli attenti osservatori del loro tempo e ne sono anche sospesi scrutano con lucidità e distacco come se fossero al di fuori del tempo stesso la vicendarsi delle epoche della storia e delle vicende umane rai si riesce a ripescare e riammodernare con un senso invece letterariamente molto gotico e romantico la figura del vampiro indissolubilmente legata al concetto di morte e al tempo ma che grazie al suo stile arricchisce di una complessità senza precedenti i suoi vampiri sono esseri complessi ricchi di dilemmi morali capaci di interrogarsi su loro stessi e sul destino tanto loro quanto quello del mondo lui in particolare cerca soprattutto risposte al mistero della sua eterna e terrificante esistenza l'alienazione profonda che vivono esseri come lui le sta claudia ma poi anche akasha marius e tutti quelli che incontreremo non sarà mai colmata dall'eccesso dal rapporto col sangue dalla costruzione di nuove famiglie e legami tra questi esseri della notte lasciamo momentaneamente un rise da parte perché passiamo al 1982 quando steven king pubblica la torre nera che in realtà era già stato anticipato nel 1978 da una serie di racconti poi revisionata anche nel 2003 ma di precisazioni editoriali a parte diciamo che la serie si compone di otto romanzi e una storia breve incorporando temi e strutture di molteplici generi tra cui ovviamente dark fantasy fantascienza horror e western la serie è stata ispirata principalmente dalla poesia child roland to the dark tower came di robert browning la vicenda narrata in prima versione da child roland un cavaliere che si è messo in viaggio alla ricerca di una misteriosa torre nera ma vediamo a king e alla sua torre nera il personaggio principale roland appunto è l'ultimo membro vivente dell'ordine dei cavalieri conosciuti come pistoleri cioè gunslinger e l'ultimo discendente di arthur eld l'analogo di real true nella sua realtà nella realtà di roland il mondo di stampo feudale si mescola con il vecchio west americano ma è del tutto privo di tecnologia nel tutto mondo rimangono tracce di una magia quasi del tutto estinta e di cimeli appartenenti ad una società avanzata tecnologicamente ormai scomparsa da tempo dando la sensazione che tutto sia tornato indietro quasi ad uno stato precedente l'obiettivo ultimo di roland e la sua missione di vita è raggiungere la torre nera una costruzione leggendaria che si dice essere il punto di sdodo dell'universo il perno di tutti i mondi nel suo mondo desolato che rispecchia il nostro in modi spaventosi roland rintraccia the man in black incontra una donna seducente di nome alice e inizia un'amicizia con un ragazzo di new york di nome jake seguiremo quindi le peripezie per arrivare alla meta roland de chan non è chiaramente un eroe in senso classico è ovviamente un anti eroe ha un passato che lo perseguita non ha paura di fare ciò che deve essere fatto per raggiungere il suo obiettivo anche se gli innocenti devono morire nel processo anche se contraddittoriamente il modello del personaggio segue la tipologia del viaggio dell'eroe catalogata da joseph campbell anche perché i riferimenti ai cavalieri della tavola rotonda e l'immaginario arturiano sono davvero prevalenti in tutta la serie nonostante la piega del protagonista e dell'oscurità nella quale veniamo calati roland è una figura inquietante un solitario in un affascinante viaggio tra il bene e il male dove forse nemmeno lui stesso sa che cosa rappresenta se il bene o soprattutto il male passiamo a qualche anno più avanti e passiamo anche a louise cooper una scrittrice che spesso si è ispirata per le ambientazioni soprattutto al suggestivo paesaggio della cornovaglia dove si trasferì da londra a metà degli anni 80 nei suoi romanzi le trame sono spesso ammantate da un'atmosfera cupa e tetra vicino all'apocalisse ricorrendo spesso alla presenza del soprannaturale nel 1986 inizia la pubblicazione dell'universo di the time master composta dalla trilogia time master dalla trilogia sequel chaos gate la serie prequel star shadow e lo spin off daughter of storms l'iniziato ci introduce in un mondo in cui l'ordine regna sul caos dopo essere stato sconfitto in una battaglia titanica che ha rimodellato la terra i sette dei dell'ordine guidati da eoris mantengono una stretta presa sul mondo controllando i servitori adepti e i loro credenti in questa eterna battaglia per la supremazia arriva tarod già emarginato nella sua società a causa del padre sconosciuto in gravi difficoltà durante un gioco innocente ha usato accidentalmente un potere che non sapeva di possedere contro suo cugino uccidendolo all'istante mentre tenta di fuggire alla condanna si imbatte in una tempesta magica probabilmente una delle ultime tracce del caos che in qualche modo lo trasporta attraverso il continente in un misterioso punto di terra magicamente separato dal resto viene accolto come iniziato dal gruppo di accoliti idee oris noto come the circle un luogo in cui tarod sente finalmente di appartenere a qualcosa ma numerosi episodi sinistri iniziano a tormentare la sua vita manifestando anche affinità oscure si innescherà così una serie di avvenimenti che spingeranno il protagonista a pesare il proprio cuore e la propria mente con ciò che invece la sua anima lo spinge a compiere time master è un brillante esempio di serie nella quale troverete molte cose che sono state o sono diventate cliché nel fantasy prima che lo diventassero oppure cercando di trasformarle in processi più imprevedibili c'è una scuola di apprendimento magico ma non di certo nel senso classico non c'è un grande male da sconfiggere facilmente identificato ma l'oscurità serpeggia bene o male in ogni persona in ogni aspetto di questo strano mondo ci sono così tanti elementi dark ed inquietanti che pervadono questa atmosfera da renderle la serie di time master estremamente appassionante e perfetta per questa puntata non aspettatevi un protagonista naive che combatte nettamente il male e lo respinge da se stesso poi entriamo negli spoiler quindi ve li lascerò scoprire durante la lettura ma diciamo che non abbiamo un protagonista propriamente devoto al bene né devoto al male dopo time master torniamo velocemente ad un rise perché nel 1990 anche la saga delle streghe di mayfair presenta un personaggio estremamente interessante per noi che ci occupiamo di dark fantasy lo spirito demoniaco la saga delle streghe comincia con rowan mayfair ma il rapporto inquietante con lo spirito inizia con la sua antenata su zen che fu la prima mayfair a controllare lo spirito lascer dopo averlo incontrato nella valle di donnellys in scozia lascer ambiva ad essere fatto di carne per entrare nel nostro mondo e sottometterlo segretamente e per diventarlo promise in cambio ricchezza e potere alla famiglia mayfair la sua storia è di per sé tragica oscura e ambisce a trasmetterla attraverso una sorta di parole demoniaca ottenuta però con l'inganno questo circolo è destinato alla tragedia come già sospettiamo dal primo volume ne avevamo ovviamente già parlato in altri video non mi voglio ripetere ulteriormente su mistress rise ma ovviamente sapete quanto sono fan e quanto questa serie in particolare forse anche più del vampiro ci riporti in una dimensione parecchio scura entriamo in un universo che tendenzialmente viene poco associato con il dark fantasy tranne che in questo caso ed era anche un po inevitabile che prima o poi avremmo citato terry brooks nel 1997 infatti esce il ciclo del demone noto anche come la trilogia del verbo e del vuoto da world and void la serie di world and void precede l'azione della trilogia di genesis of shannara quindi ci troviamo nell'universo di shannara e funge davvero inizio della saga considerata ormai una sorta di prequel definitivo la trilogia è composta da il demone uscito nel 1997 titolo originale running with the demon il cavaliere del verbo a night of the world nel 98 il fuoco degli angeli angel fire east nel 99 ed è prevalentemente ambientata nell'attuale illinois narra la storia e le battaglie tra i cavaliere del verbo e i demoni del vuoto e si concentra su nest freemark una ragazza dotata di invidiabili capacità atletiche e di poteri magici ereditati dalle donne della famiglia sue antenate e john ross un cavaliere del verbo questi diventano conoscenti forzati che usano la magia data loro dal verbo per impedire all'umanità di essere sopraffatto dalle forze demoniache del vuoto mentre numerosi poteri cercano di prendere il controllo delle capacità di nest in un mondo dove il verbo e il vuoto sono due entità soprannaturali in eterno conflitto i demoni di brooks rappresentano quasi sempre il decadimento gli stinti peggiori e il male insito nella civiltà occidentale incarnano quei mali invisibili e visibili che possono scatenare le più grandi tragedie dell'umanità soffiano sul fuoco appena vedono una flebile miccia che cova sentimenti negativi a questi è contrapposta la figura del cavaliere del verbo e delle sue difficoltà che si pone l'obiettivo di salvare dalla distruzione una società che pare ormai condannata volevo fare una citazione davvero breve e velocissima perché effettivamente non riesco a trattenermi ad aspettare 200 anni cioè quando scriverò finalmente la puntata sull'urban e sul paranormal fantasy e volevo citare assolutamente una delle mie serie preferite velocemente perché nel 2001 escono i dresden files di jim butcher una serie incredibilmente non tradotta in italiano mannaggia gli erittori e tutti quelli che non gliel'hanno imposto da piccoli comunque dresden files è qui in questa puntata perché si parla spesso di creature non tutte le creature stanno per forza dalla parte dell'oscurità anche se non sono le protagoniste di questa serie gli elementi dark di dresden files sono numerosi a partire dall'ambientazione dalle atmosfere e per questo insomma è una serie che ci tenevo a citare un pochino intanto abbiamo messo un fermino in questi fantasy talks ma poi facciamo un salto in avanti perché qua finalmente si apre anche un altro capitolo della puntata che noi potremmo definire gaimaniana dentro fantasy talks infatti se c'è un autore contemporaneo che è incluso nei suoi libri che siano per adulti o per bambini elementi dark horror e fantasy è proprio lo zio neil gaiman nei suoi cicli di romanzi e di fumetti parla di fantastico mitologico che coabita con la modernità e le sue forme incorpora elementi dell'orrore cupi oscuri atture deformità familiarizzandoli per il lettore e componendo cosmi sempre vicinissimi alle paure moderne gaiman in questo modo spinge il genere fantasy verso nuove frontiere letterarie dandogli nuova l'infa a partire dal celeberrimo american gods uscito nel 2001 american gods è un perfetto esempio di elementi dark fantasy mescolati a tutt'altro vero è che tutta la narrazione è oscura e tesa ma senza dimenticare elementi più affini a gaiman e al suo stile qui ritroviamo infatti gli dei che si comportano alla strega di mostri creaturano i potenti e anche se possiamo quindi sovrapporli a genere come il fantasy mitologico che sicuramente american gods incorpora i suoi dei sono secolarizzati persino nella brutalità e nelle parti più oscure anche gli obiettivi dei nostri dei in battaglia sono molto poco nobili istintivi e virili nella loro espressione il dark fantasy come citavamo un po all'inizio riesce anche idealmente ad introdurre una serie di dinamiche sociali e di questioni espresse dai mostri come l'invisibilità e la liminalità shadow come altri protagonisti e personaggi di gaiman è un outsider il tempo trascorso in prigione di shadow lo definisce come l'altro proprio perché i pregiudicati sono appunto marginalità richiamando numerose tematiche di alienazione invisibilizzazione non è un caso che il suo nome sia proprio shadow come un vero e proprio rito di passaggio la liminalità diventa una delle fasi della riaffermazione diventando una fase transitoria quello che non è più ancorato a ciò che erano in passato in una fase di sommossa che ribolle nel presente e che ancora non hanno individuato ciò che saranno alla fine di questo loro percorso di conquista gli dei sì sono tanto scuri perché agiscono per torno al conto personale agiscono nell'ombra ma tanti di loro rappresentano proprio questa marginalità nel 2002 invece esce coralline che è un libro con un target molto diverso perché indirizzato ai bambini ma bambini che avranno un sacco di incubi un giorno particolarmente noioso e piovoso intrappola la giovane coralline nella sua nuova casa i suoi genitori sono occupati lei deve intrattenersi inizia a contare quante porte ci sono in casa ne trova una nel salotto che è chiusa al contrario di tutte le altre ma scopre anche una piccola chiave per entrare scopre così un passaggio verso l'altro mondo in esso ci sono la sua altra madre e il suo altro padre entrambi hanno sempre tempo per lei e adorano preparare i suoi cibi preferiti ma c'è qualcosa di troppo sinistro nei due che le fa venire i brividi l'universo di coralline incorpora elementi gotici horror e dark fantasy in una maniera magistrale patos crescente atmosfere sempre più oscure inquietanti personaggi disturbanti e premesse sempre più angoscianti anche perché insieme a coralline esploriamo un mondo molto simile al nostro ma del tutto artificioso creando un senso di straniamento ansiogeno e tesissimo non spaventa ma inquieta lasciando a chi lo legge una sensazione turbata per giù una metafora che gioca tutto su quanto la fantasia possa essere un'arma sempre a doppio taglio da un lato confortante creativa dall'altro difficile da governare e dov'è fin troppo facile perdersi distorcendo il reale incredibile ma vero probabilmente siamo arrivati quasi in fondo a questa puntata le ultime segnalazioni sono sicuramente quelle di che riguarda visto che è tantissimo tempo che stiamo parlando le ultime segnalazioni riguardano sicuramente Fiona McIntosh che nel 2001 pubblica la trilogia di Trinity e nel 2003 quella di The Quickening entrambe serie con tantissimi elementi epic e non solo ma tanti 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 altri che riguardano invece il dark fantasy due serie che invece abbiamo già visto nella puntata sul Grim Dark sono A Land Fit for Heroes e A Still Remains di Richard K. Morgan dei quali ovviamente avete già sentito parlare insomma visto che siamo arrivati in fondo a questa puntata spero che vi abbia regalato tanti spunti e tanti temi di approfondimento e sono davvero felice che finalmente siano tornati fantasy talks come sempre non riesco a promettervi alcuna regolarità visto che ci metto davvero moltissimo a scrivere le puntate ma spero davvero di avervi fatto piacere con questo ritorno direi che ancora una volta io vi ringrazio per avermi ascoltata e noi ci vediamo alla prossima puntata